Siamo a Borgofranco col sindaco Fausto Francisca, oggi parte la campagna vaccinazione e qui ha il primo punto in Piemonte. Come sta andando? Sta andando abbastanza bene, vediamo che c'è una fluenza regolare, normale, sono tutti stati prenotati quindi con l'organizzazione attuata dall'ASL, credo che non ci sia nessun problema. Sono 60, abbiamo detto, gli anziani che si sono prenotati oggi. Sì, sono 60, credo 10 per ogni medico di famiglia, di zona, praticamente sono tutti qui questa mattina a passare il loro turno. Le vaccinazioni saranno sempre consentite, premio dopo prenotazione e dopo accordo con il medico di famiglia. Abbiamo visto all'interno del centro anziani che ci sono due tende dove gli anziani a turno entrano e vengono accolti dai medici per essere vaccinati. Sì, noi abbiamo allestito due tende, c'è poi c'è un'accettazione, c'è ancora la necessità di un'ulteriore tenda per una terza linea di vaccinazione. Stiamo provvedendo, in settimana credo che riusciremo a fornirla. In più, una linea dedicata a internet di fibra. Anche in settimana crediamo di poter metterla a disposizione dell'apparato. E all'esterno vediamo che ci sono i volontari dell'AIB e la Croce Rossa. Sì, noi abbiamo chiesto aiuto ai volontari dell'AIB e anche alla Croce Rossa, ma anche poi chiederemo l'aiuto anche agli alpini e ai volontari dei centri anziani per turnarsi, perché questo è un centro che durerà fino a dicembre. Questo punto Covid è stato realizzato secondo i principi anche dell'economia circolare. Molto probabilmente nessuno se ne accorge, ma noi con questo stiamo riutilizzando tutte le cose che abbiamo già in comune. La spesa sarà minima, non certamente quella prevista dal progetto Primula a livello nazionale. Noi qui con 2-3 mila euro siamo stati in grado di mettere a disposizione gli apparati all'Aslo come c'è richiesto. Siamo a Borgofranco con l'assessore Milena Bordette per la campagna vaccinazioni Covid-19. Come sta andando? Direi proprio bene, c'è un afflusso continuo, i prenotati stanno arrivando tutti, quindi stiamo lavorando bene. Avete organizzato tutto con tempi brevi? Sì, praticamente in una settimana dall'Udedi scorso sono venuti dall'Asla a controllare se il salone poteva andare bene, ci hanno detto cosa dovevamo preparare e noi abbiamo cercato di fare il possibile per che oggi sia tutto a posto. E gli anziani e i loro familiari che li accompagnano, avete sentito, hanno detto qualcosa? Sono contenti? Sì, sono molto contenti, sono soddisfatti vicino a casa, diciamo quasi come fossero una famiglia perché conoscono e quindi i loro medici curanti si sentono sicuri. Grazie mille.